Il club è nato nel 2018 da un'esigenza di condividere più approfonditamente e il grosso successo ha avuto il nostro servizio di stampa gestita, quindi TT Print Intelligent, in modo da rendere partecipi di un gruppo anche i nostri clienti, in modo da condividere informazioni e esperienze. I progetti per il futuro sono quelli di cercare di creare sempre situazioni in cui far partecipare i nostri clienti, quindi farli testare, provare prodotti nuovi, quindi portarli anche in demo center dei vari brand che noi distribuiamo, da Epson ad HP, in modo da renderli sempre più informati e più aggiornati su questo tipo di ambiente. L'esperienza durante questo anno è andata bene, abbiamo creato un po' di eventi in modo da condividere con i nostri clienti, esperienze e informazioni relative a tutte le novità nel campo dell'ambiente di stampa, quindi l'esperienza è stata ottima perché è stata la prima occasione per i nostri clienti di condividere le loro esperienze, e quindi riportare informazioni che potessero aiutare le varie risoluzioni di problematiche che normalmente si hanno con la gestione del parco stampanti in tutte le situazioni. L'app di TT Print Intelligent, sviluppata a 360 gradi da Tecno Sistemi, permette ai nostri clienti di monitorare, di collegarsi al loro parco stampanti collegato in rete, quindi a visualizzare lo stato di ogni singolo dispositivo, quindi dai volumi stampati totali, alle medie mensili, ai livelli dei toner, e a conoscere se Tecno Sistemi ha gestito o meno l'alert di termine di toner, quindi se ha ordinato presso quella determinata sede un consumabile, e dà la possibilità al cliente anche di aprire richieste di assistenza tecnica direttamente dall'app. Andando a selezionare direttamente una stampante, c'è la possibilità di aprire una richiesta di assistenza tecnica direttamente a Tecno Sistemi, che poi interverrà con tutti gli strumenti del caso. Sicuramente è un'esperienza davvero nuova, soprattutto per me, mai provata, un rapporto che già esisteva con Tecno Sistemi, ma questo sicuramente l'ha consolidato e ha dato modo di poter fungere da collante tra il cliente, il fornitore e Tecno Sistemi. Come dicevo, la regia di Tecno Sistemi è importantissima dietro, tutta l'organizzazione, la macchina organizzativa, il supporto che dà l'ambassador e via dicendo. I vantaggi sono molteplici, assolutamente, in primis è un'ottimizzazione, un'ecosostenibilità, davvero insomma che aderiamo al progetto di Print Relief, di cui Tecno Sistemi insomma aderisce del leader. Le nuove funzionalità calate sugli utenti, ho notato insomma che con il tempo sono diventate molto, quasi essenziali, e gli utenti non possono più fare a meno, diciamo, di questa centralizzazione della parte cliente. Intanto è una bellissima opportunità, una prima opportunità per me in questo ambito e vorrei con la collaborazione appunto dei colleghi di Tecno Sistemi trovare un modo per migliorare l'attuale situazione, diciamo in particolare quella che stiamo vivendo noi come Marazzi Group e poi vedere se ci sono appunto attraverso queste migliorie sui toner, sul portale o sulla nuova app che è stata presentata anche stasera, delle innovazioni che potrebbero essere utili anche ad altri clienti. Quindi nel ruolo di ambassador avere la possibilità di comunicare con altre aziende, parlare delle problematiche ma anche delle soluzioni positive che hanno implementato, può essere diciamo un modo social ad oggi che può essere utile sia per Tecno Sistemi, per rendere l'azienda più produttiva e innovativa, che anche i clienti dal punto di via sia del risparmio che della produttività.